Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin con feta, pomodori secchi e olive. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, formaggio spalmabile, latte, pomodori secchi sotto olio sgocciolati e tagliati a pezzetti, feto tagliati a pezzetti, olive nere denocciolate, lievito per torte salate, olio di semi, origano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, il sale, il pepe, l'olio, il latte ed il formaggio spalmabile ed acciniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. unire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo la farina, il lievito e l'origano ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo i pomodori secchi la feta e le olive amalgamiamo con la spatola il composto è pronto, trasferiamolo nei pirottini per muffin cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 25 minuti circa i muffin ne sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servire muffin con feta pomodori secchi e olive grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.